La Scamacchia giocava nel Lazio e abbiamo perso una finale, una semifinale a Massacrarala col Poi secondo me l'anno dopo l'ha comperato a Roma e dopo un anno o due è andato a giocare al PS4 in 2 e poi dal PS4 in 2 l'ha ripreso con Sassuola Ho finalmente qualche bella ragazza Grazie a tutti 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 Grazie a tutti